Rimozione di barricate da parte delle forze dell'ordine, opposizione dei manifestanti, una carica di alleggerimento, mattinata di tensione in Vassusa nei pressi del cantiere di Chiomonte. La polizia è intervenuta per rimuovere le barricate Notav sul sentiero Gallo Romano vicino all'area dei mulini. Una ventina di persone sono salite sui tetti e sugli alberi, altri manifestanti hanno raggiunto la località per sostenerli, fra loro riportano le forze dell'ordine, tanti erano del centro sociale a Scatasuna. C'è stata una carica di alleggerimento della polizia e due agenti sono rimasti feriti.